Buongiorno, buonasera e buonanotte, benvenuti a questo nuovo episodio di 2 minuti con Paolino Oggi parliamo di 5, 6, 7, 8, 9, non lo so quanti sono modi di dire per sostituire il solito I think Quindi io penso I think, I think, I think ha un po' stufato ed è sempre uguale Quindi arricchiamo un attimo il nostro lessico, vi dico questi 6, 7, 8, 9, non lo so quanti sono modi per dire I think Cominciamo con il numero 1 I wonder, I wonder Every time that I think of I wonder, ogni volta che penso alla frase I wonder, non so perché ma mi viene in mente Harry Potter, quando, non so il momento di preciso, comunque Albus Silente, il preside della scuola, diceva sempre questa cosa I wonder if, I wonder if, perché I wonder vuol dire mi chiedo, quindi I wonder if vuol dire mi chiedo se, mi chiedo se, I wonder if Per esempio, mi chiedo se il mio cane, Nini, capisca veramente quello che, quello che le dico, quello che, qualche comando che le do Quindi, I wonder if, I wonder if my dog really understands what I'm saying, or understands my commands, or, or she just understands my gestures, or she just hears the tone of the voice I don't know, I wonder if she really understands, quindi mi chiedo se il mio cane capisce veramente quello che sto dicendo, oppure, dipende tutto da, che ne so, dai miei gesti, da come muovo le mani, oppure dal tono della mia voce Ecco, oppure capisce veramente quello che sto dicendo, I wonder if, mi chiedo se Numero 2, questa è molto 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 usata, io sinceramente non la uso molto perché mi sembra un po' troppo formale Non è così in realtà, però non so, nella mia testa è così Ed è il I believe Quindi per esempio, se qualcuno vi chiede, pensi che lui ti stia dicendo la verità Voi potete rispondere, I believe so, I believe he is telling the truth Credo che lui stia dicendo la verità Oppure, I don't believe so Il mio cane ha appena ruttato, avete sentito? Il numero 3 is, I consider Quindi, io lo uso molto per esempio, quando sto pensando magari di iniziare a fare qualcosa che nella mia vita non facevo prima, quindi I'm considering about trying out a new gym Quindi sto pensando di cambiare palestra e andare a provare una nuova I'm considering about studying Chinese Sto pensando di iniziare a imparare il cinese, a studiare il cinese Un altro modo per dire I think, questo lo uso moltissimo ed è il as far as I know Tradotto vuol dire per quanto ne so, per quanto ne so io As far as I know I don't know how that girl can afford to buy a new car every year Non so come, ma questa ragazza si compra una macchina, un'automobile nuova ogni anno Because as far as I know, she actually doesn't have a lot of money Perché per quanto ne so, non ha così tanti soldi, non è ricca Quindi non so come faccia a permetterselo Quindi facciamo la frase completa I don't know how that girl can afford to buy a new car every year Because as far as I know, she doesn't have a lot of money She's not actually rich Gli ultimi tre modi sono usati un po' per esprimere la vostra opinione su qualcosa Quindi il primo è in my opinion Per come la vedo io, quindi in my opinion In my opinion, she is telling the truth Per come la vedo io, la mia opinione è che lei stia dicendo la verità, ok? Modo numero due è the way I see it Che vuol dire praticamente la stessa identica cosa In my opinion, the way I see it The way I see it, traduzione letterale Per come la vedo io The way I see it Per come la vedo io The way I see it The design of that new car is actually very poor I don't like it Per come la vedo io, il design di quella nuova macchina che è uscita È molto povero, non mi piace Non è molto elegante, non mi piace The way I see it L'ultimo modo è molto corto E vuol dire la stessa identica cosa The way I see it Or in my opinion Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del to me Esatto E basta To me To me Vuol dire letteralmente per me Quindi, esempio To me, it looks like she has something to hide Per come la vedo io Per me sembra che lei abbia qualcosa da nascondere She has something to hide It looks like she has something to hide to me Siamo arrivati alla fine Ciao nini Siamo arrivati alla fine Spero che vi sia piaciuto questo video Lasciatemi un commento Mettetemi un like Scrivetemi in privato Fate quello che volete Fatemi sentire che siete vi Nini Grazie Fatemi sentire che siete vivi Mi raccomando Fate uno screenshot alle slide riassumtive E ci sentiamo la settimana prossima Ciao Anzi Volevo farvi vedere una cosa Le calze con le banane Ciao 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 Grazie per la visione!